eccoci qua in questo nuovo video teoria ed approfondimento di nassimi esperti solo la verità iscrivetevi mettete like attivate la campanella in ordine e se vi va la cosa importante scrivete un commento poi mettete l'hashtag però secondo me la cosa più importante ripeto è l'iscrizione a voi non costa nulla ma per noi è un concetto estremamente importante che serve per far conoscere di più il nostro canale oggi parliamo ovviamente in questa video teoria della mother flame delle armi ancestrali delle mie avventure del mondo che si sta per inabissare facciamo riferimento fino al capitolo 1114 perché lo sapete che le stesure dei commentoni dei video che facciamo con l'argo anticipo quindi quello che accadrà nei prossimi capitoli non lo sappiamo ma magari possiamo prevederlo ovviamente questi ultimi capitoli quindi fino al 1114 di Wampisi sono capitoli importanti che nonostante la pausa ci stanno raccontando la storia la narrativa concetti di grande spessore perché anche se seppur alcuni concetti per noi lettori erano già non per tutti ma per alcuni sia all'interno del mondo di Wampisi le persone ignoravano tutto ciò e questi eventi cambieranno radicalmente la storia del manga interno per come noi la conosciamo la verità sta venendo a galla non tutto ovviamente perché ci sono anche all'interno della storia di Wampisi gli spogliatori anche lì li trovate purtroppo allora il capitolo è importante sia innanzitutto per il mother flame appunto è stato finalmente mostrato questa che è una vera e propria fiamma importante scena fantastica splash page degna dei migliori disegni di oro perché veramente è vero che la pausa per noi è una cosa brutta ma per lui alla fine è una cosa importante perché lui riposandosi riesce a produrre poi cose migliori tecnicamente stilisticamente sembra quasi che ci stesse presentando un personaggio un nuovo nemico un'arma ancestrale una città un'icona un qualcosa comunque di importante ovviamente sono delle metafore per farvi capire il concetto sono degli esempi ci mancherebbe altro sembra quasi design di un reattore nucleare qualcosa di fantastico vabbè sorvoliamo su saturnico bastone che sembra una scena mezza comica e per esempio ci sono vari riferimenti da fare uno è al mito di prometeus sappiamo prometeus è uno degli uomini silbichi ma ne parliamo del concetto storico culturale che come significato è colui che riflette prima la mitologia greca e quindi è colui che rubò il fuoco della conoscenza degli dèi per dare i suoi amici uomini un amico dell'umanità e del progresso sappiamo no questo avvenne in antitesi a zeus poi venne punito ma lui comunque venne confinato del tarto comunque lui aveva compiuto queste azioni venne vincolate eccetera eccetera ma era una cosa molto importante no perché lui è l'archetipo comunque di un sapere sciolto dei vincoli del mito e quindi da ideologie imposte è un simbolo di ribellione e così via la cosa importante ancora di questa fiamma è collegata al nostro video di quattro anni fa il video su im sama all'epoca perché non sapevamo ancora che fosse imunerona a meno per quello che ci dice Ivan Koff e collegamento a questo video teoria dove analizziamo e teorizziamo un po' di Koff e ad un certo punto ci addentrammo nella fattispecie in quel frame concettuale storico e spieghiamo come re Alfonso d'Aragona un uomo di grande cultura oltre che un grande conquistatore si insediò a Napoli nel maschio angiorino e ci sono dei luoghi e riferimenti per esplicare il concetto tranquilli si sedette sul trono con in mano un libro e davanti a vivere una fiamma ovviamente era un simbolo una traccia un significato si parlava di seggio periglioso dove vi era questa fiamma ardente a cui poteva accedere solo colui che possedeva il santo grado un oggetto mistico leggendario praticamente un tesoro quindi si parla di questa simbologia ci fa riferimento a un passato attraverso il quale a volte veniva trasmessa la conoscenza delle generazioni future è un esempio ovviamente per noi rappresentato del po' negli no inoltre sempre questa leggenda simbolicamente veniva rappresentata con questa fiamma su un trono come se fosse un'entità vera e propria un po' come il modo e flame c'era un libro che era solo dalla copertina per nascondere la conoscenza agli altri e quindi capite bene che dovete recuperare quel video vabbè poi riferimentissimi dei riferimenti interessantissimi e velocissimi ad anmu che tradotto è atomo ovviamente per i kaji per le cose importanti che vengono pronunciate dal giapponese all'inglese e quindi per chi basica un poco di fisica e clinica sarà già tutto semplicissimo abbiamo anche la questione del atomic mass unity così definita da john dalton che venne chiamata anche DA l'unità di misura della massa atomica poi abbiamo il fatto del 108 sempre sul modo e flame vabbè ma di si tratta veramente di cose incredibili questione di religione questione numerica questione della natura questione matematica questione dei diametri questione astronomica questione astrologica questione chimica questione fisica questione di mitologia nella regione lo sport e quindi sono veramente dei concetti tantissimi con il chakra il saluto al sole i sentimenti dell'essere umano vabbè i gradi fahrenheit quindi è inutile che che mi addientra ancora di qui perché ci sono i commentoni per questo e poi è interessante che come sempre legato quindi alle regioni anche orientali vi ricordate la taglia di urochi monocopasso 108 milioni ma anche una delle tecniche di zoro no le 108 passioni demoniche della fenice tecniche altre spade vabbè lo sapete odo è un pazzo con i numeri noi siamo più pazzi di lui a questo punto di vista un riferimento anche a Oppenheimer però la verità di Vegard è anche clamorosa perché lui ci parla di cose importantissime che tutti hanno paura di dire chi le studia viene aditato come nemico del governo mondiale e quindi nel mondo ci parla della questione della madre natura vi ricordate tanti capitoli fa che si ribellava ai fruttati che erano queste persone che avevano avuto questi desideri di avere quei poteri e quindi appunti fruttati non possono nuotare però la cosa più importante e facendo un passo indietro è quello lì di riferimento alla questione di Geboi questo guerriero che è vissuto 800-900 anni fa non è precisa la situazione che ha combattuto i 100 anni bui un secolo vuoto che era di gomma che si trasformava anche lui in nica e quindi ovviamente ha detto il frutto, il potere del frutto, l'osano mitologico del Dio del Sol e Nica questa è la verità che venne occultata, la verità che è scritta nei pornecliff perché non passi indietro con le mini avventure di Enero che noi già analizzammo tantissimo tempo fa e ci torniamo indietro infatti a capitolo 1065-1066 potete trovare sia dei live che dei commentoni nei capitoli in cui ci sono queste mini avventure capitolo 472, 471, 473 più o meno bazzicate vedetevele tutte e questo video teoria è importante perché lì fa riferimento ai Lunariani, agli abitanti del Dio del Cielo a Nica, quindi alle armi ancestrali, interpretazione dei geroglifici quindi ci sono tante cose importanti che possono essere mostrate lì adesso partiamo, infatti le parole di Sciacca all'epoca aprivano scenari immensi e danno anche diverse conferme, infatti già come abbiamo detto in passato sicuramente c'è un collegamento con quei robottini che erano le mini avventure che si trovavano situati nelle mini avventure di Enero ma non solo quello perché anche nella realtà se vogliamo illazionare che l'antico Egitto fosse una creazione o nonché un'esternazione sulla terra degli alieni non è da escludere che anche l'antico regno, i Lunariani, i vari dei che venivano additati prima e poi dopo possono essere qualcosa di simile le mini avventure appunto si mostrano Enero sulla Luna i geroglifici che riportano vari esseri alati come quelli che possono essere quindi gli abitanti dell'isola nel cielo ma può esserci anche un collegamento con i Lunariani possono esserci i design delle armi ancestrali perché no, facciamo riferimento anche a cose che nemmeno Detective Conan potrebbe dire la sua in questo senso quindi anche lui ci troverebbe in difficoltà il finale del capitolo 1065 ad esempio ci lasciava un po' di stucco perché il futuro di 500 anni così come venne esplicato in realtà è un passato che ritorna un passato lontano quasi 900 anni e questo fa riferimento e ci fa ritornare in mente come ad esempio l'antico Egitto come abbiamo appena menzionato la teoria degli antichi astronauti, l'insieme delle teorie che ipotizzano un contatto fra le civiltà extraterrestri e altre civiltà terrestri umane come ad esempio i Sumeri, Egizi, altre città europee e città prelecolombiane ma anche il mito di Atlantide, la prima notizia risale al famosissimo Platone nel suo dialogo in cui Crizia, politico e filosofo greco, narra che 9000 anni prima di Solone si estendeva al di là delle colonne d'Ercole l'isola di Atlantide, la più grande, ancora maggiore dell'Asia e della Libia insieme, come narravano, e essere abitata dai dieci figli che il dio Poseidone aveva avuto con una donna mortale. Poi questa prole ci esiste sempre di più, ci esiste anche il territorio e infatti i monti separavano i luoghi dal mare e si diceva che superassero per numero grandezza e bellezza tutti quelli ormai esistenti e chiudevano tra di loro molti villaggi che erano ricchi e erano ricchi anche di abitanti, di fiumi, di laghi, di prati e fornivano un nutrimento sufficiente anche a tutti gli animali domestici ma anche a quelli selvaggi, grande selva copiosa e svariata che si forgeva comunque con del materiale abbondante a tutti coloro che lavoravano e vivivano nella giustizia e nella pace. Successivamente però a causa di grandi terremoti, inondazioni, nel tempo un giorno e in una notte tutti i guerrieri che facevano parte di queste civiltà che si erano estese, sprofondarono insieme dentro la terra sott'acqua e scomparve anche l'intera isola di Atlantide assorbita dal mare, sprofondendo un singolo giorno e una singola notte, una cosa clamorosa. Perciò ancora quel mare impraticabile, inesplorabile, quel mare un po' come ha detto regalo anche la madre della natura di tutti che decide a un certo punto di spazzare via tutti, fare una ripulita, un dannazio memoria. Se torniamo in One Piece, quale territorio, quale luce dobbiamo spegnere, una purga, purga pride, insomma un po' di storia. Essendo quindi tutto questo, sprofondarlo nei bassi fondi. E questo che ci ricorda? Ci ricorda sicuramente la Uano antica che sta sott'acqua, ci ricorda l'isola degli uomini pesce, ci ricorda civiltà antiche, civiltà che sono possibili raccontate nei geroglesici là sulla luna, ma ci ricorda anche un po' le stranezze di Water 7, abbiamo detto già Uano o la cascata, ma le stranezze di Ennis Lobby, la stranezza di Impel Down. Insomma, ci sono tante cose interessanti. Ovviamente questa è la storia funzionale ai dialoghi di Platone per la questione di Atlantis, che generalmente è vista come un mito concepito dal filosofo greco per illustrare le proprie idee politiche anche. Però poi ovviamente ci sono dei film anche di riferimento, citazione come ad Atlantis, l'impero perduto, oppure a Aquaman. Ad esempio la leggenda narra in Aquaman che prima che ci fosse la caduta del grande regno, quando ancora i regni di Atlantide tra virgolette erano tutti uniti, ci fu un tempo di prosperità, di tecnologie conquistate incredibili e vi era il segreto dell'energia illimitata. Quando il mondo però pensava ancora che la terra fosse piatta e poi dopo il popolo divenne troppo ambizioso e troppo avido per questo potere. Lo stesso potere che fece cedere alla civiltà cadere e sprofondare la strada del futuro, però poi dopo. Regredirono. Come vedete, alla fine se facciamo riferimento in questo storico e culturale riusciamo a trovare un po' tutto, perché noi abbiamo sempre detto che ci dovrà essere questa guerra finale, che avremo bisogno comunque di Nika J. Boy, che è l'uomo che libera i popoli. Capiamo che queste alleanze sono importanti. Zunesha, abbiamo solo Bo Antico, abbiamo i giganti, abbiamo i lunariani, abbiamo i bucanieri, abbiamo Fishman Island, abbiamo l'isola nel cielo, abbiamo i sun, i mink, abbiamo WAN, abbiamo i collegamenti con Poseidon, abbiamo, se vogliamo, Pluton, dobbiamo capire ancora bene com'è Uranus. Insomma, capiamo che la tecnologia che c'era adesso non c'è più, vogliamo ritornare lì, che la storia è stata cancellata, che dei popoli sono stati inabissati, Vecamoni ce l'ha detto, no? Perché se continuiamo così andremo a finire sott'acqua. Chissà che non è già successo in passato con il mito dell'Atalantide e come una questione ciclica si possa realizzare in futuro, ma perché ci sono delle testimonianze del passato, questo non lo sappiamo, vedremo. Quindi capite che alla fine la fiamma e c'è un riferimento, la civiltà e c'è un riferimento, quello che può succedere e c'è un riferimento. Se rimaniamo nella storia, come ad esempio Vegapunk con Einstein, eccetera, se rimaniamo nella storia, alla fine Oda piace sempre a darci degli spunti interessanti. Il Mother Flame, alla fine questa energia, non lo so, Vegapunk all'inizio con Lilith ciò che disse che questa energia limitata che loro cercavano, eccetera, non l'avevano trovata e c'era un riferimento. Poi alla fine però c'è il Mother Flame che sembra essere l'energia che serve appunto a far funzionare l'arma che usarono il governo mondiale, che usò i Musama per far sparire Lusia, quindi che in realtà l'energia ci sia, ma era una menzogna. Non sapevano come attivare il robot, abbiamo visto che sembra essere attivato grazie al ballo di Nika e questo non c'è dubbio, abbattito il suo cuore, insomma abbiamo capito che ci vuole Rufy che risveglie il frutto e chiede scusa a Joy Boy, Zunesce era collegato a Joy Boy, Joy Boy fa la promessa a Poseidon e non è per tale di Lilith scrive la lettera ed è collegata anch'essa a Joy Boy. Capiamo che praticamente stiamo andando a finire in un qualcosa di storico, di trascendentale e la cosa sicura è che Rufy dovrà avere le triamme ancestrali, per adesso ne ha due, Pluton e Poseidon, ma non le ha che le possiede, ma le ha come alleanze, bisognerà capire cosa succederà anche con Karibu che lo dirà Tic, bisognerà capire dove è Uranus, qual è Uranus, dove è, quindi come è esplicata, perché diciamo questo, perché le tre armi possono appunto cambiare l'asset del mondo, a prescindere da quanto possono essere forti i nemici, da quanto possono essere forti gli alleati, ma il mondo potrebbe appunto sprofondare. Detto questo, diteci la vostra, ricordatevi che facciamo riferimento fino al capitolo 1114, addirittura stiamo andando a finire 40, 50, 60 capitoli dietro, quindi non vi dovete preoccupare, se questo video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi, mettete un hashtag a vostra discrezionalità, io metterei Mother Flame, ma potete mettere anche quella dell'arma ancestrale, potete mettere anche il mito dell'Atlante di cui abbiamo discusso tanto, attivate la campanella, spolliciate, mettete l'aschiera, commentate e mi raccomando iscrivetevi, perché come sempre qui non ci sono teorie, ma c'è solo e soltanto, che cosa? La verità, la verità, mi raccomando non spogliate, perché le spogliate voi dopo dovete venire qui ai massimi esperti, poi vi perdonano se vi iscrivete, come? Con la verità. Grazie.